Cimitero Angeli lavori in corso per il plesso che si trova all'ingresso del terzo cancello del cimitero comunale, una struttura affatiscente e problematica già da anni, che ora è oggetto di interventi tecnici. I lavori sono cominciati, hanno avuto qualche difficoltà e si sono fatti lavori a monte, cioè lavori sostanzialmente per il risanamento dei pilastri della pensilina a monte. Successivamente a questi lavori bisogna fare le opere definitive. Le opere definitive e le opere che sono quelle più importanti consistono nel risanamento della struttura a valle, qui lungo la strada, in cui si procederà con delle opere in cemento armato, prima dei pali, poi un solettone, collegati a questo solettone delle mensole. Queste mensole andranno a sostenere i cedimenti che già noi vediamo, della soletta del piano di posa, della struttura di cui l'intervento. Andare a trovare i propri cari defunti, ma in sicurezza. Questa è la richiesta di più cittadini. Prevediamo che i lavori che ci hanno sollecitato la maggior parte della cittadinanza finiranno entro la fine dell'anno. È un lavoro che è iniziato da sopra, la struttura, e continueranno per poi terminare dalla parte bassa della struttura. Mi sento di rassicurare tutti quelli che erano preoccupati che i lavori stanno procedendo solettamente. e poi mi sento di rassicurare tutti che i lavori stanno procedendo.